ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video allora ho trovato in un negozio questa scatolina de me contro tre cutie doll surprise qui dice sophie o lui tanti modelli tutti da scoprire ecco qua scopri chi si nasconde cutie doll surprise della giochi preziosi in effetti sono bambolotti che la caricatura di questi due personaggi allora però vi svelo un segreto io so chi ci sta qua dentro perché praticamente facendo forte forte così vabbè nel negozio con la luce io poi ho preso anche il cellulare ho messo la pila facendo così si vede comunque all'interno che ci sta quindi volendo uno può scegliere se approssimativamente se vuole il maschio o la femmina poi vabbè so che dovrebbe esserci vari vestiti quindi se il maschio che la femmina li troverete con diversi abbigliamenti però diciamo a me non mi interessava tanto l'abbigliamento quando il personaggio da trovare adesso vi faccio vedere comunque ecco almeno uno si sceglie anche se non vuole fare la coppia facendo così almeno perché vabbè a scegliere il vestito mi sembra un po eccessivo ma meno a scegliere il maschio o la femmina questo qua l'ho pagato 12 euro eccolo qua allora facendo così ecco infatti non so se si è visto ho schiacciato dove io guardavo e si è aperto e infatti è uscito il maschetto e gli avevo anche visto che portava il cappuccio giallo troppo bellino a poi ecco forse fa anche vedere in effetti la scatolina piccolino oddio com'è bellino ecco qui allora qui ti do la surprise me contro te a eccoli qua sei modelli diversi quindi abbiamo solo due maschi e quattro femmine l'ho beccato al primo colpo che ho schiacciato ho visto che era il maschio e poi mi sono accorta che il maschio in effetti la femmina c'è il rossetto mentre il maschio non ce l'ha e da lì che ho avuto l'idea perché io volevo il maschio collezionale tutti e gioca con lui e sophie comunque ecco volendo uno può vabbè tralasciando l'abbigliamento che va bene un po eccessivo ma almeno vedere se il maschio e femmina quindi se vedete il rossetto è la femminuccia che stai in vari vestiti che carino vestito fa bella questa con le corne in testa belline molto molto carine e questo qua 12 euro vabbè per una cosa un po particolare in effetti se non vuole giocare fare la coppia ci sta ci può anche stare solo così si può fare eccolo qui come sei piccolo allora il nostro bambolottino porta i jeans le scappette da ginnastica e la felpa col cappuccio gialla con la scritta me contro te ecco qua abbassiamo e vediamo col ciuffetto alzato eccolo qua che carina che sei bellino e vediamo invece quell'altro giusto per curiosità l'altro com'era a così a pantalone giallo e maglia celeste ma forse più carino questo col cappuccetto più divertente come l'importante era aver trovato in mano ok io spero questo video vi sia piaciuto e vi mando un bacione e alla prossima ciao 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 ciao